Allora, buonasera. Carlo Moro, il sindaco, chiaramente da appena dopo la programmazione a basto avrei detto che dovevamo fare questa cosa per stare insieme stasera, insieme alla giuria, insieme a alcuni amici e soprattutto per fare forse un menù topico, diciamo, poi non so se ci stanno bene, il primo di Altino, Calamarata, anche stasera se so giusto, è la vostra Porchino, e che dovrebbero arrivare i tarallucci di Casalbordino. Però questo lo vedremo dopo a cena, dove poi pure la fondazione ha previsto così un riconoscimento a questi tre comuni. Adesso però, visto che stiamo qua, ci siamo trovati prima, insomma ci stanno alcuni autorevoli membri della giuria, l'onorevole amato, il presidente Marco Vecchio, il dottor Pascali, il professor Murolo, insomma, non so più la produccia della giuria, l'anno scorso, e Nicolino Taviano. E Nicolino Taviano, perché lui, e adesso noi stiamo ragionando, siccome i comuni sono 58, e allora non potendo farvi assaggiare tutti e 58 i prodotti, che diventano 60, allora abbiamo detto, vabbè, facciamo la giuria, dividiamola in tre, no? E Nicolino invece, se è opposto, ha detto, no, chi sta nella giuria deve assaggiare tutti e 54. Allora, quindi, poi vediamo. Ha ragione. Poi ci sono alcuni professori, e saluto innanzitutto la delegazione del Comune di Altino, composta dall'assessore dei due consigli comunali, come a te, che ora conosciamo, e poi il presidente dell'associazione è andato già a preparare. Non so se viene Tino, viene o non viene. Non si sa, per favore. Poi, così, giusto per introdurre un po' il discorso, credo che lo sappiate tutti, ma facciamone anche un momento di riflessione, praticamente le regioni che partecipano, per quanto alcune con una bandierina, diciamo, però Cosenza invece si sta impegnando seriamente ha coinvolto l'Università di Rende, ha già incontrato un'antropologa del Molise, dell'Università del Molise, per fare una commissione in Zietro. Voglio dire, la Calabria ci sta a credere, l'ho detto a Raimondo quel giorno che ci sono andato, che verranno, questi calabresi verranno insieme ai canadesi, cioè ad aprile. Quindi, casomai, faremo visitare, come al solito, il Museo del Peperoggino Vostro e altre realtà, Agnone, Bette, mezzo di vediato. Poi c'è anche il Museo Affresa, che Gino ha inaugurato, per l'emigrazione, quello di Palombaro del Minato. Quindi, va bene, dicevo, la Calabria ci sta a credere, Benevento partecipa con l'associazione Benevento Longobarda e la cosa la facciamo il 25 nell'ambito della rilocazione medievale, 25 giugno. La Raimondo è vedere se il segretario di scopunti ci può venire, perché insomma anche a Benevento si può sviluppare un ragionamento serio. Serra Capriola, che è il comune pugliese, adesso l'abbiamo scoperto, che Cervillo, parente di Arnaldo e consulente della regione Puri per il turismo, non lo sapevano, quindi sono un altro accancio. Melfi invece ci sta, Vanzi, la tavola a Valdini, confermiamo le Marche, quei tre comuni già dell'anno scorso e devo dire che il resto ha più di noi dell'Abruzzo, anzi l'Abruzzo, forse abbiamo perso qualcuno, abbiamo voluto recuperare qualche anno, per esempio i due terramani, ma soprattutto i Molise, tanto Molise, hanno dimostrato davvero di credere, non solo al progetto prototopico, ma a tutto quello che è stato. Allora io penso di poter comunicarvi che Gigi Mollo ci ha dato un'altra e unesima idea buona su cui stiamo lavorando, che è quella di fare l'apollenza dei poveri, cioè di dotare questa rete che si va creando, dei comuni topici che ripeto sono 58 di 7 regioni, di dotarle di un centro studio e di ricerca, che può essere l'ITS, stiamo ragionando sull'ITS, ma che comunque può anche essere un master di primo livello per il quale la facoltà di Agrarie di Campobasso ha già dato la disponibilità e lo vorrebbe fare ad Agnone, poi noi abbiamo detto di crociarlo con Castiglione perché diventa interregionale, comunque vi sapremo dire perché Gigi noi dobbiamo andare all'università sabato prossimo. Quindi questo è lo stato dell'arte. Quest'anno il comitato scientifico, cioè quello che sarà poi una parte sarà la giuria, ci penserai molto come al solito, ma il comitato scientifico, io l'ho chiamato così, che è quello che poi conferisce alla persona che se ne occupa, al cavalier del protodopio con questo riconoscimento, e con Boffo, sempre da Sciarra, che si scusa perché stasera hanno con Grilli un evento lì a Teramo, ma anche c'è un sociologo che insegna metodologia, mi pare, a Campobasso, quest'antropologa che vi ho detto di Campobasso, poi ci sta Emano Marcovecchio e Murolo e Manzi, che sono tre cultori di storia locale molto molto segreti, e poi, ripeto, oltre a quell'anno scorso c'è Silvana Marcucci e Letizia Daniele e ci sta anche Nicola Mastronardi, che è l'autore di Viterio. Quindi, il comitato... Viterio... 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 Però, voglio dire, quindi, partiamo da una giuria e la cosa la trasformiamo in un comitato scientifico. Siamo partiti da una serie di cene fatte qua, la prima quadra, quello di là, penso, grazie a Anno su queste idee di mettere al concorso le porchette e siamo arrivati a, diciamo, una cosa seria. Diamo il pervenuto anche al comune di Talenda, chiedere. È una cosa seria fatta di ricerca, di studi, incrociando le scuole. Tenete conto che stamattina sono stato da una maestra di San Salvo nei percorsi che faremo, oltre che le degustazioni, che non sono manco più obbligatorie, ma, diciamo, la gran parte lo fa, faremo, come abbiamo fatto a Palmoli l'ultima volta, penso che su Facebook l'avete visto, come abbiamo fatto a Poggio Sanita, a Agnone, faremo, se domani non nevica, per esempio, a Pietra Bondante, la visita dell'area archeologica, o Nicola Mastronati che ci guida. Poi loro fanno l'accezione del fuoco e la pensione degli animali, quindi avremo dei professori che spiegheranno questo. Quindi, soprattutto, avremo le scuole che ci accompagneranno, le scuole sia superiori che anche le scuole di grado inferiore. Quindi, voglio dire, tutto questo diventa veramente un progetto di valorizzazione territoriale. I circuiti sono i circuiti dei castelli, con castelli seri, ci sta Capestrano, ci sta, lo voglio dire perché, Civita Campomarano, Rocca Scalegna, che lo sapevamo, Casoli, Serra Capriola a Punto, Benevento, Campobasso, Palmoli, che abbiamo già visitato, quindi, circuiti dei castelli, dei musei, che è uno di quelli altino, ma non solo, e poi ci stanno, della natura, ci sarà Fara San Martino, per esempio, o la visita anche ai pastifici, insomma. Quindi, la cosa non è solo la semplice degustazione o la semplice riflessione, ma è anche la valorizzazione e soprattutto la creazione della rete, in modo che se dobbiamo fare qualcosa ci abbiamo già tutto. Tra le università, i comuni sono innumerevoli e anche le prologo, insomma, tutta questa grande mole di attori sociali che abbiamo messo in piedi. Io credo che, insomma, oltre a questo, che devo dire, Sindaco, vi do la parola a te per il saluto e poi parliamo liberamente, no? C'è nel senso. Grazie, grazie. Buonasera a tutti e vi do il benvenuto specialmente a chi viene per la prima volta, Altino, che è conosciuto questa sera, veramente un saluto particolare al presidente della Pinkerton, Graziano Marcovecchio, l'onorevole Maria Amato e tutti i professori, il professor Muro, il professor Marcovecchio, grazie a tutti di essere venuti. Noi siamo un po' forse sfortunati con questa iniziativa. L'avevamo fissata per la fine di novembre, poi tutti gli eventi di quei giorni, l'abbiamo fissata per oggi e insomma il tempo neanche sempre che ci voglia accompagnare, però fino a l'uno dei tuoi siamo tranquilli, presidente, quindi voi la nottate. Allora, su questa cosa, sì, come dicevi tu, Arso, noi come comune, come cittadinanza, siamo stati molto, ma molto contenti e soddisfatti del riconoscimento del prodotto topico alla porchetta di linterna. Chiaramente per noi è un vanto, è un prodotto che ormai all'interna si fa da tre generazioni e quindi siamo molto soddisfatti e contenti. Devo dire che una battuta il presidente Marcovecchio mi diceva che insomma l'onorevole mi potrà confermare che durante la decisione tra la calaverata di Altino e la porchetta di linterna insomma qualche problema c'è stato. Sono volati un po' di piatti un po' di... perché non si trovavano molto d'accordo però alla fine hanno trovato il sistema giusto per premiare entrambi i prodotti. Io sono... è arrivata pure l'associazione di Altino che prepara la calaverata. Eccoli qua. Ti salutiamo. Buonasera. Accomodatevi, prego. Accomodatevi. Come diceva Maurizio siamo partiti tre anni fa con circa trenta comuni eravamo e solo Abruzzo e Molise. L'anno scorso siamo arrivati a trentacinque comprendendo anche i comuni delle Marche quest'anno siamo arrivati a cinquantotto comprendendo anche la Calabria la Basilicata e insomma la Puglia e la Campania e la Campania quindi insomma diciamo che tutto il centro-sud ci sta rendendo a questa operazione arrivato pure il sindaco di Togliona buonasera Rocco Rocco accomodati c'è posto di qua quindi io per il momento mi fermo qui ringraziandovi veramente per la partecipazione saluto tutti i colleghi amministratori il sindaco di Friesa tutti i sindaci presenti gli amministratori di Tavenna saluto tutti i consiglieri comunali di Lentella presenti gli assessori ringrazio chi come al solito è da stamattina che si sta dando da fare per preparare per questa sera e chiaramente poi come fondazione abbiamo voluto insieme al direttore abbiamo pensato che era il caso che anche la fondazione per l'arte e l'archidologia del Bastese contribuisse poi a dare un riconoscimento ai tre prodotti che hanno vinto l'edizione dello scorso anno quindi grazie a tutti e la parola a un'azionale sì va bene la parola a me facciamo una chiacchierata il professor Murlo dopo poi parliamo Gigi prego prego il professor Murlo allora facciamo così 6-7 minuti adesso ecco 10 minuti 10 minuti dunque io vorrei riprendere il tema già affrontato a Lentella no a Lentella io lo scusa a Palmoli la cosa è questa io a Palmoli stavamo discutendo il mistero era quale fosse il maiale da brusso che poi non ho avuto il tempo di dire ecco però una cosa molto importante è questa l'animale negro cioè il nero da brusso il maiale nero da brusso va assolutamente ripreso e valorizzato questo è il maiale che non certo la large wire o animali di questo genere che vanno utilizzati ora una cosa importante invece è mettere insieme tutte le topicità e fare proprio il prodotto topico per esempio dato che organizzativamente c'è solo il peperone d'altino e a questo punto occorre che qualcuno cominci anche a vedere il maiale nero la coltivazione del cioè la chiedo scusa la coltivazione l'allevamento del maiale nero e cominciare a reintrodurre questo diciamo a reintrodurre tutti ecco storie fortunatamente il maiale nero è stato salvato ed è stato anche insomma adesso è in allevamento sarebbe il caso che la porchetta fosse fatta con il maiale nero che la ventricina fosse fatta con il maiale nero e soprattutto avere una filiera dove uno sa che uno che può mettere che vuole mettere un piccolo allevamento sa che tutti quelli del prodotto topico si rivolgono lì per comprare il maiale ecco io vorrei che questo meccanismo che è stato messo in essere molto interessante io non voglio più usare altri peperoni se non il peperone di altino punto non mi interessano gli altri il maiale io voglio usare solo quel maiale e quell'allevamento se noi facciamo la certificazione ci dobbiamo mettere peperone altino lo certifichiamo noi mettiamo dove l'allevamento deve essere visibile cioè il grande sforzo il grande sforzo che va fatto è quello di promuovere e invitare chi è disponibile a lavorare dentro questo meccanismo ora certamente l'anno scorso quando è stato ammazzato il maiale io l'ho visto insomma una operazione cruenta ma molto importante però era un maiale large white e il maiale large white è il maiale diffuso non è il topico allora il topico deve riguardare il prodotto che si coltiva o si alleva qui tra tutti i comuni della filiera la forza deve essere proprio questa ed è un tentativo su cui bisogna contare faccio esempio il lavaggio io quando ho fatto il disciplinare per la ventricina ho messo il lavaggio dei budelli con una grume particolare che è la citrangola ora il lavaggio con la citrangola va fatto e quindi deve essere tutto deve essere certificato e dato che ammasso la citrangola si trova buttata da tutte le parti tutti i viali sono fatti di citrangole non sono aranci sono aranci selvatici in Sicilia hanno un altro nome non sono la stessa cosa ma sono vicino alle zagare allora il tema di fondo è questo ci vogliamo provare? c'è qualcuno che ha un allevamento e vuole tentare però ben sapendo che ci si rivolge al maiale nero ci sta Slow Food insieme con con un'associazione che ha rimesso insieme questo sono pochi capi io non parlo della produzione di massa parlo del prodotto del prodotto che deve essere consumato qui vedete gli assaggi hanno un valore molto istruttivo perché fanno capire una cosa che gli assaggi cioè noi non dobbiamo produrre per esportare ma per consumare qui questo è il tema vero perché altrimenti noi facciamo per portare la gente non per esportarla allora l'animale diciamo tutti gli animali devono essere devono avere questa diciamo le erbe tutto ciò che c'è per esempio proprio a fresa c'è la coltivazione del grano saragolla lo vogliamo cominciare a usare il grano saragolla però con il lievito di birra non con il lievito di birra ma con il lievito madre per fare il pane cioè questi sono argomenti che devono essere ripresi io e se no altrimenti non ha se non si favorisce questo tipo di di approccio non funziona niente dobbiamo guardare l'aspetto anche produttivo e allora questo è ciò che dobbiamo fare ecco grano saragolla e fare il pane con il lievito madre e per cortesia evitiamo il lievito di birra ma lo vogliamo rilanciare adesso fortunatamente sta andando il grano saragolla sta andando di per sé però lo vogliamo usare e vogliamo dire che il kamut altro non è che la variante il canadè cosiddetto kamut del grano saragolla ora noi dobbiamo vedete stavo dicendo gli assaggi gli assaggi sono importanti perché non perché uno va a mangiare ma per fare capire una cosa che se l'assaggio diventa il modo stesso cioè che le persone vanno a mangiare lì quel prodotto e vuol dire che si rendono conto dell'ambiente quindi noi dobbiamo favorire questa operazione l'assaggio è un modello è un diciamo ecco fa capire qual è il senso a fredda e qui a lentella senza l'assaggio se non dico c'è proprio un pezzettino per mangiare la porchetta questa è la cosa importante cioè noi veniamo qui per fare questa operazione punto sappiamo a quel punto che la porchetta la possiamo comprare qui non la andiamo a comprare da un'altra parte il pomodoro il peperone di alzino che rilegge il è su questo terreno dunque possiamo parlare e dire tante cose ma se non sviluppiamo questo rapporto con il consumo in loco con il consumo topico nel luogo con tutti i prodotti del luogo noi non usciamo fuori dalle secche cioè la ventricina è il maiale non è il maiale è quel maiale il peperone non è il peperone è quel peperone il grano non è il grano è quel grano dobbiamo sapere dunque tutte queste cose e allora l'olio io ho avuto la fortuna in chiudo di di bere l'oliastro come si chiama l'oliastro di palmoli una una proprio un un olivo coltivatissimo nell'ottocento sono poche piante però veramente è una particolarità da gustare io quello l'ho gustato l'ho non assaggiato l'ho bevuto come si deve bere l'olio quindi noi dobbiamo ragionare in questi termini altrimenti mangiamo il maiale tanto quella è la ventricina no quella è una cosa che somiglia alla ventricina non è la ventricina punto e basta a mio avviso ecco il prodotto topico deve essere questa riflessione chi sono anche i soggetti che sono interessati a sviluppare queste attività e fare quindi un mercato interno al prodotto topico per favorire dunque la produzione locale questo è caro Corazio a mio avviso il tema su cui puntare poi vedremo il vedremo il resto tanti hanno fatto una cosa da studio da studiare nel senso Gigi hanno fatto il lavoro che dici tu però poi l'intermediario di situazioni come questa nostra e forse non è manco imprenditoro Sebastiano e Sebastiano che il presidente dell'associazione quindi hanno saputo unire che cosa perché questo è il punto e forse anche all'endella è la stessa cosa diciamo l'affettività al posto che hanno quelli che lo fanno come associazione come volontari come persone che hanno la propria identità che mettono la propria identità al primo posto agli legittimi e giusti interessi economici il punto qual è e quindi quella forse è la giusta via di mezzo però su 58 solo questo è il caso perché anche laddove come Agnone ci pensa a intermediare l'assessore Saia che conosciamo tutti quanti l'assessore Saia il primo anno ci ha preparato un piatto unico con i tre formaggi fatto di tre imprenditori l'anno scorso gli imprenditori sono diventati due e quest'anno ne puntano a quattro e comunque hanno problemi perché perché gli imprenditori che invece pensano solo ai cavoli propri mi dicono caro Cicci ma perché io devo allevare il porco nero e spendere soldi eccetera eccetera quando posso prendere il porco da una di queste questa mazzanzalba eccetera e lo vendono a pochissimo allora dove noi abbiamo le associazioni non parlo delle associazioni di impresa ma le associazioni come la prologo di palmoli che avendo allora l'anno scorso cominciamo a fare a mettere i piedi nel piatto chi ha venduto di più è stata la prologo di palmoli ha tirato ha tirato il prodotto sicuramente cioè le polpe di vendricina è una cosa nuova ha venduto gli spiedini perché sappiamo che in altra associazione che l'endella va bene ha portato poche porche interi va bene va bene però allora noi dobbiamo conciliare e comunque su palmoli non abbiamo avuto non ci sta nessun problema nel senso che l'associazione che ma è un'associazione identitaria una prologo che lo fa perché fa l'assalio non è l'associazione di impresa come di questi allora laddove noi invece abbiamo no vi do degli stimoli laddove invece noi abbiamo degli imprenditori puri quelli che sono tipo i produttori di cività campomarani che fanno i ciente cioè è una signora una bravissima signora però poi abbiamo altri vendi che fa più o meno la stessa cosa abbiamo due problemi l'anno scorso è stato l'unico poi a fare quello che invece due anni prima l'hanno fatto quasi cioè a vendere il prodotto e il prodotto allora noi dobbiamo lavorare ciao Presidente dobbiamo lavorare su questi imprenditori cioè ecco Gigi tu oggi hai parlato diciamo stimoliamo facciamo diciamo però io sono arrivato alla conclusione dopo aver fatto degli statuti senza reti perché in dubbio il primo anno l'ho scritto da solo lo statuto l'anno scorso l'ho scritto diciamo insieme soprattutto a Arnaldo nel senso che lui poi ha rivisto Arnaldo si scusa l'onorevole Mario si scusa c'è un problema lo statuto dell'anno scorso diciamo lo scritto l'ho scritto però alla fine la corretta Arnaldo quindi l'anno scorso e l'edizione e la prima edizione ci hanno insegnato che cosa che se noi non vecchio ci dice perché sono andati a Maratè a Ernano a Manzi le scuole perché io mi sono reso conto e correggete facciamo una chiacchierata tra amici perché tali siamo che questo ragionamento di sviluppo sugli imprenditori che dici tu se non lo facciamo con la cultura e se non agiamo con le leve della cultura e quindi questi corsi noi non andremo da nessuna parte mi viene in mente perché c'è il presidente della PIC qua davanti che quando nel 63-64 i suoi predecessori hanno impiantato la SIV e noi ci avevamo tutti i contadini che non sapevano fare gli operai hanno dovuto fare dei corsi di formazione gli operai giusto il presidente non sono ma i primi quadri i primi tecnici ci stanno ancora voglio dire San Migno chi è venuto da Napoli chi è venuto dalla Toscana i vari i mancini eccetera allora noi se vogliamo che diventi industria questa cosa che stiamo facendo che vogliamo che diventi sviluppo dobbiamo fare quello che ha fatto la SIV nel 63 andare ad agire sugli imprenditori per fargli capire che non è cioè che se facciamo le sferdine ma non mi riferisco a qualcosa o a qualcuno in particolare non creiamo poi la specializzazione con cui oggi gli operai della Pinkerton vengono a quelli della Polonia perché hanno un know-how e una specializzazione che li porta ad essere superiore a quelli della Polonia pur in presenza e Graziano poi ce lo dirà di costi di fiscalità eccetera elevati allora noi che costo dobbiamo fare caro Gigi quello che dici tu va bene l'ha detto all'inizio vedo fatto i travagli non se ne è andato chissà qua con le associazioni datoriali io ho un'altra delusione forte l'ho avuta delle associazioni datoriali perché le associazioni datoriali dovrebbero fare questo chi gli deve spiegare all'operale della SIV chi ha spiegato all'operale della SIV come farò al contadino entrato la SIV con l'operale la SIV stessa adesso a questi operai dei prodotti topic a questi arrivatori a questi produttori a questi agenti che ci sta che è diffuso il territorio in città chi lo deve fare la formazione la SIV io penso che lo deve fare l'associazione datoriale beh se stessero qua mi dispiace se ne è andato fabbio io non credo che le associazioni datoriali fanno questo se non lo fanno loro visto che ci abbiamo abbiamo visto l'altra serie una cosa bellissima però io la prima cosa che ho fatto a Palmoli gli ho detto a Ebrano Marco Vecchio dobbiamo rafforzare la generosità di Artiglio Artiglio è stato bravo 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 però se portiamo delle persone e tenete conto che l'altra sera a Palmoli l'avete visto non è carata per niente l'interesse della gente che ci ascoltava dobbiamo costruire ora Nino Fuiano ci ha detto che farà ad ogni ragazzo mi trovo del mio ad ogni ragazzo cioè andiamo a vedere andrà a vedere i suoi ragazzi se sono di uno di questi compi insieme a lui gli farà la formazione in modo che i sindaci che ne so di Pietra Abbondante i sindaci domani al posto di chiamare Mastolanti che di anni si utilizza un ragazzo per farci vedere il teatro sannitico e allora se io ti vengo a chiamare Gigi e ti dico ripartiamo dalle scuole ripartiamo dalla cultura perché ho capito che non sono sintonizzati i produttori nostri ma non solo i produttori non sono nemmeno le scuole sono sono parate su questi argomenti la scuola è un buco nero su questi argomenti quindi il problema di fondo è tutto qui allora io o semplicemente lo so bene che la formazione ma qua stiamo con il cane che si morde la coda perché da dove dobbiamo cominciare e la storia è sempre quella l'anno scorso c'è stato un seminario che ha prodotto e guarda è che è dal punto di vista dove che vedi le cose su cui tu devi intervenire ora io non ci credo perché anche se noi facciamo l'ITS riusciamo a farle credo di sì io per esempio oggi ne ho parlato a scuola e i miei alunni dello scientifico almeno quattro erano interessatissimi alla questione ma il problema è l'ITS presuppone una cosa fondamentale il rapporto con le imprese quali sono quali sono le imprese allora no no ti sto dicendo una cosa se io c'ho l'impresa alla alla Pilkington non ho problemi c'è la Pilkington sto lì ma gastronomia tu dove punti su quale imprese allora io so una cosa che Romito ha messo non un'ITS ha messo un'attività di quel genere ma è lui il padrone è solo come si dice a passatella però il il tema il tema di fondo è tutto qui noi facciamo questo l'ITS a chi ci rivolgiamo quali sono i soggetti quali sono i soggetti che fanno questa impresa non esistono non esistono e allora ecco perché si tratta di scusa ma non è colpa mia e chiacchiamo non mi sto chiamando da solo quindi ancora non avevo questa follia quindi allora ecco vedi caro Horacio è su questo che noi non possiamo fare nemmeno scuola lavoro perché ci mancano le imprese sull'argomento e allora se facciamo un master d'accordo e a chi lo rivolgono qual è il mercato però però Tonino di Toro ma tu conoscerai che sono forse sì ma io ti sto dicendo e magari sai dove vanno a fare il vanno a Altino perché l'unica l'unica realtà di questo genere è Altino punto quindi che vanno a fare scuola lavoro ad Altino perché non ce n'è un'altra di azienda possono andare soltanto là dove si è sviluppato solo con il vino e l'olio punto ma se andiamo a vedere gastronomia non c'è niente tutto qui e quindi ecco perché il lavoro è proprio è contestuale cominciare a vedere uno c'ha un pezzo di terra vogliamo vedere come si fa vogliamo vedere come si può levare un maiale bene facciamo questo tutto qua ma deve cominciare in questo modo se no come è cominciato il vino così come è cominciato l'olio Raimondo Raimondo Pasquale presidente della giuria e fondatore di Slow Food dunque buonasera a tutti corre l'obbligo di ringraziare il sindaco Carlo Moro per questa serata questa bella serata ancora un'altra bella serata e comunque voglio entrare come dire immediatamente nel nel tema perché le suggestioni del e i rimbrotti anche del professor Murlo che stasera ma non mi ascolta poi te lo ridico no no vado un attimo anche le rivoluzioni vanno assolutamente sono telefonate che non si possono delegare a terzi no volevo proprio ripartire dalle questioni che poneva il professor muro dicendo che la premessa che faccio è che sarà perché pure il mio tipo di approccio al quotidiano il bicchiere per me è sempre mezzo pieno non è mai mezzo vento abbiamo già fatto un percorso che come si diceva come diceva prima Orazio siamo partiti da un'idea da così come dire quasi come una butata tra amici confrontando due porchette che dobbiamo dire quella famosa sfida rimasta ancora per voi che non conoscevano la storia è una sfida che sta ancora in perfettissima parità e non ancora si dirime perché in tre serate diverse contesti diversi momenti diversi eccetera la serata è finita sempre in perfetta parità ed è ancora un mistero che noi non ci riusciamo a spiegare e la sfida era che si parteva tra la porchetta di Lentera e la porchetta di Fresa Grandinale adesso ci sono tutti e due i rappresentanti come dire più alti in carica che sono i due sindaci di Fresa Grandinale e hanno il parroco che è comune e hanno il parroco che è fatto a Tredunione che potrebbe essere l'anno della bilancia la prossima volta per dirimere veramente definitivamente se l'una o l'altra anche se per il prodotto adorchio dobbiamo dire che la porchetta di Lentella sicuramente per l'apprezzamento che ha ricevuto per la qualità per quello che ha suggerito perché noi della giuria ci siamo sempre posti in questa maniera cioè abbiamo provato a fare in modo che il piatto ci raccontasse qualcosa e i piatti che ci hanno raccontato qualcosa a livello di diciamo dal coinvolgimento di tutti i sensi di tutti e cinque i sensi hanno fatto poi venire fuori la differenza dobbiamo dire e confermo e ribadisco anche in qualità di Presidente che alla fine alla fine della fiera per sciogliere il dubbio il nodo se la porchetta valesse più della calamarata di Altino è stata una cosa che non dico alla fine abbiamo deciso buttando la monetina a testa o croce insomma tale era la difficoltà però insomma ci siamo andati vicini però volevo partire dal prodotto topico ventricina che era prodotto topico porchetta che si era andata per conto subito e quindi per tutta una serie poi di ulteriori considerazioni adesso non voglio stare qui a ribadire ce ne la faremo mattina la giuria ha deciso poi alla fine all'unanimità che il prodotto topico dovesse essere indicato in quello di l'entella per tutta una serie di motivazioni ma sul prodotto topico di Altino il peperone la molla che ho fatto scattare in maniera particolare per l'attenzione era il lavoro che stava dietro al piatto che voi e che la comunità di Altino ha portato che ha proposto quindi l'indicazione oltre al prodotto è andata alla come dire al percorso che ha fatto in modo che quel prodotto venisse proposto e la modalità e adesso è la modalità con questa proposta è stata premiata è stata valorizzata adesso io dico noi abbiamo una fortuna lo dico come Slow Food Slow Food in questo territorio dopo 4-5 anni vengo ai temi che poneva il professor Muro lo prima è riuscita a ricostituire il presidio Slow Food per la lintricina del Vaspisa la ventricina oggi è un prodotto che sta sulla bocca di tutti al livello ormai nazionale se è vero come è vero che soltanto domenica scorsa una delle trasmissioni sull'agroalimentare più seguiti in assoluto in Italia su Rai 1 che è Linea Verde ha visto una puntata per intera dedicata a questo territorio in maniera particolare alla ventricina al percorso dell'olio in una maniera un po' come dire particolare c'è un altro pezzo della provincia di Chieti che tutti conosciamo per l'eccellenza del vino ma paradossalmente non si conosceva sul profilo dell'eccellenza dell'uva che fa quel vino perché quella era un uva che prima di essere un uva che veniva da rinificare era un uva che si mangiava a tavola e quindi era un realtà dove si partiva dall'uva da tavola insomma sono tutti degli aspetti delle specificità delle peculiarità sulle quali andrebbe appuntata l'attenzione il tema che imponeva il professor Muro noi nella ricostituzione della ventricina l'abbiamo dibattuto a lungo con i produttori di ventricina e nel disciplinare della ventricina sul quale io da questa sera l'ho già detto agli amici che costituiscono il presidio della ventricina mi sono già impegnato il presidio della ventricina nasce attraverso l'adesione ad un protocollo disciplinare di produzione della ventricina che chiede ai produttori di rispettare una serie di caratteristiche di requisito l'argomento il tema numero uno per ricostituire questo presidio è stata la materia prima la materia prima è il maiale adesso veniamo pure alla maiale niente è il maiale perché quando si parla di maiale giustamente lo dicevi si parla di qualsiasi cosa il maiale noi abbiamo posto un problema come slow food per cercare un po' di richiamare l'attenzione perché sennò il dibattito ci portava avanti e si è trascinato per anni e non ci consentiva di chiudere poi di fare la quadratura del cerchio abbiamo già da dire innanzitutto il maiale deve essere italiano perché il 60-70% dei maiali che girano nel nostro territorio sono tutti extracomunitari o quasi dopodiché dopo aver fatto accettare questo discorso che i maiali fossero come dire nati in Italia fossero ricondotti ad un territorio più stretto che fosse l'area di produzione della ventricina o nei territori dell'area di mitrofa cioè quindi abbiamo allargato Molise Abruzzo Marche Puglia chiedendo a questi produttori di ventricina di fare un accordo di questa natura dove prendiamo i maiali li prendiamo da produttori italiani li facciamo svezzare e completare come dire il percorso di vita che non è biblico il percorso di vita del maiale sappiamo tutti che va dagli 11 ai 13 mesi se gli va di lusso dopodiché il maiale fa la fine che deve fare però facendo in modo che l'ultimo periodo di vita del maiale fosse completato in questi territori con un'alimentazione specifica che riguardasse la tipologia e la produzione di questi territori per fare in modo che questa cosa avesse appunto questa peculiarità e questa particolarità su questo ci siamo riusciti il percorso sul maiale nero è stato già tentato da diversi produttori c'è stata ed è stata riscontrata una difficoltà oggettiva a conservare in questa parte di territorio la tipicità del maiale nero perché ci hanno spiegato i tecnici i veterinari i produttori gli allevatori che comunque su questo territorio c'è una difficoltà enorme a tenere e a dare come dire valore economico all'allevamento e alla vita del maiale nero questo mi sto qua a dire per esempio ci racconta perché poi a noi profani che non siamo né veterinari né allevatori ci spiegiamo che le nostre temperature il nostro clima fa in modo che il maiale nero per la sua caratteristica perché il nero come dire il mantello viene particolarmente colpito dal sole fa in modo che il maiale che non si può proteggere fa una cosa comincia a rotolarsi per terra si gratta si distrugge e lesiona le carni soprattutto le parti nobili dal quale poi dovrebbe essere presa la carne con cui si dovrebbe fare la ventricina tu prendi di più di più di più di più di più di più non entriamo noi perché professor noi abbiamo fatto dibattiti a non finire con i produttori e gli allevatori che ci raccontavano queste cose quindi noi come se lo funda abbiamo alzato le mani di fronte alle come dire alle controindicazioni che ci davano gli allevatori produttori e i veterinari quindi il maiale nero ha questa difficoltà per essere introdotto in maniera così specifica e un'altra cosa che ci veniva detta sul maiale nero il maiale nero è un maiale particolarmente atletico cioè un animale che si muove molto diciamo che fa molto il ginnarsi è molto magro e quindi siccome tutte le caratteristiche della ventricina ci portano a dire che per fare un'ottima ventricina il maiale nero è troppo magro ed ha una massa magra troppo importante rispetto alla massa grassa invece che pure questo maiale dovrebbe avere per fare in modo che la fragranza della ventricina abbia la fragranza che è la se c'è la giusta percentuale tra parte magra e parte grassa quindi questo un po' per fare la sintesi l'impegno ulteriore che noi vogliamo prendere da quando si è ricostituito voglio venire agli amici di Altino e di questa rancura potremmo fare perché in Italia non c'è ancora nemmeno tra i 240 presidi slow food un prodotto che possa contenere al suo interno due presidi slow food l'impegno che io voglio fare assumere che ho già proposto ai produttori di ventricina è fare in modo che nel disciplinare di produzione della ventricina venga inserita tra gli ingredienti da utilizzare parte il peperone il peperone del presidio di Altino perché anche Altino si fregge di essere presidio slow food se noi riusciamo a fare questa operazione andremo a proporre sul mercato nazionale il primo come dire prodotto che è frutto di due presidi slow food e che si potrebbe freggiare diciamo sulla sua etichetta dei due simboli dei due presidi su questo se c'è disponibilità da parte come dire degli amici di Altino credo che si possa continuare a lavorare in sinergia per fare questa cosa e la prima opportunità che avremo per presentare questa cosa a livello nazionale l'obiettivo che ci possiamo dare è quella di andare a presentare questa cosa e questo prodotto nel prossimo settembre a Terra Madre Salone del Gusto 2016 che si terrà a Torino che è l'evento più importante in tutta la filiera agroalimentare nazionale insieme alla Fiera di Verona quindi questo è un ulteriore percorso che noi pensiamo di fare che vogliamo avviare sin da questa sera sono qui in maniera particolare questa sera anche per questo motivo quindi poi con gli amici di Altino troveremo il modo un attimo di confrontarci di vedere come portare avanti questo ragionamento sì certo benissimo anche voi il ragionamento lo dobbiamo fare con i produttori e perché osare lo è solo la differenza alla fine la fanno i produttori perché noi slow food che siamo una sorta diciamo di talebani della difesa della tipicità della tradizione della salvaguarda della tutela della biodiversità abbiamo fatto in modo che anche i produttori di ventricina alla fine continuassero a fare il lavoro che devono fare perché un produttore un orcino per stare sul mercato e far vivere la sua azienda deve poter fare un po' di tutto può anche fare 3.000 ventricine all'anno per dire un numero però sappiamo che per fare 3.000 ventricine all'anno non tutte queste 3.000 ventricine possono freggiarsi poi di essere ventricina con il macchio presidio slow food allora abbiamo detto come fanno le grandi cantine che fanno milioni di bottiglie poi fanno anche una selezione particolare fanno la gran crew fanno mille bottiglie che sono lavorate in maniera particolare con uve particolari eccetera fanno un etichetto particolare e quella si può freggiare di allora il prodotto topico ci può aiutare a fare questo percorso i prodotti che intervengono e che stanno nella filiera e nella rete del prodotto topico verranno messi all'interno di disciplinari di produzione per fare in modo che questa tipicità e questa topicità vengano rappresentate all'interno diciamo di questo disciplinare che poi ci porterà alla definizione di una serie di prodotti che sicuramente non potranno essere 58 ma se già da 1 siamo arrivati a 2 arriveremo ad altri come dire a 3 4 5 abbiamo fatto e abbiamo aiutato questo territorio a rappresentarsi all'esterno come una tipicità che diventa come dire emergenza culturale ed enogastronomica per cui vale la pena venire in questi territori non soltanto per le bellezze poi artistiche e culturali nel nostro territorio i musei i castelli i borghi ma anche soprattutto poi la filiera agroalimentare grazie grazie Raimondo Antino nel senso che qualcuno di voi dice che siete oggetto di discussione venite raccontate un po' quello che avete fatto Sebastiano buonasera che dire la nostra associazione è nata nel 2007 delle persone che hanno creduto a questo diciamo a questo siamo più in competenza a questo progetto ecco si sono uniti e hanno formato questa associazione questa è un'associazione diciamo prima di tutto che diciamo fa promozione fondamentalmente noi abbiamo siamo riusciti siamo riusciti a fare a ricreare un movimento economico attorno al Peverone ci sono la nascita di perlomeno 4-5 aziende di cui una è anche presente qua di Donatello che è un giovane un giovane imprenditore quindi sta facendo diciamo tutto il percorso che riguarda diciamo la produzione del Peverone noi diciamo quello che contraddistingue l'associazione del Peverone è il festival che si fa ogni dal primo esempio questa diciamo dovrà essere l'ottava edizione che a noi diciamo è portato in risalto veramente il Peverone questa è una manifestazione dove ci sono sette contrade che preparano un primo un secondo e un dolce e c'è una giuria gastronomica che praticamente valuta tutti questi piatti e dà un premio a questo Peverone e quindi è una manifestazione un'associazione che praticamente sta coinvolgendo molto tutto il paese sono 300 persone che diciamo che fanno più che altro volontariato noi siamo un'associazione di volontari che diamo facciamo promozione andiamo in giro quest'anno siamo stati all'Expo siamo stati due volte all'Expo anche parecchie manifestazioni al Sano del Gusto e quindi facciamo queste iniziative qua prevalentemente vogliamo ringraziare anche voi come diciamo come associazione del portodopio che ci dà comunque altra visibilità anche in queste diciamo e una mano anche in questa zona che per noi è un po' più importante perché comunque con il Peverone dolce è in Cricina ma anche noi come si parlava prima di Scinari di Chiqueta noi praticamente come associazione facciamo anche questo abbiamo l'associazione praticamente lui che ha scritto diciamo il disciplinare di produzione poi con Slow Food lo stiamo un attimo diciamo riguardando però noi abbiamo un marchio proprio nostro dell'associazione che diamo ecco a tutti quelli ai produttori che si vogliono iniziare sull'attività noi facciamo anche questa tutela tutela e promozione in filosofia no in storia in storia e ha fatto una tesi sulle comunità trovate nostre e dopodiché ha deciso da storico di mettersi a fare sì allora salve a tutti sono Don Dallo vengo da Altino come diceva lui sono diventato produttore di peperone dopo una laurea di storia e filosofia in cui ho fatto proprio una tesi sui paesi salvoporati nel Molise proprio alla ricerca delle origini del peperone di coloro che hanno portato la coltivazione di questo peperone e l'uso della paprica nel nostro territorio perché è molto limitato solo la zona dell'alto vasto per le Molise quindi secondo noi era un'ipotesi molto probabilmente sono state queste popolazioni che scappavano dai Balcani nel 1500 perché là stanno arrivando gli ottomani a portare con loro questo cibo e questa tradizione la paprica dolce nel nostro territorio che poi è stata utilizzata soprattutto nell'alto vasto e nell'utilizzo degli insarcati molto probabilmente perché forse il sale era molto più costoso quindi c'erano essere delle ragioni storiche che hanno portato a questa cosa anche questo a livello di territorio è una peculiarità soltanto nostra che si potrebbe raccontare e sviluppare anche con percorsi turistici di diamellaggi tra i due spondi della triale questi che i miei rapporti risalgono proprio al 1500 poi soltanto una questione per quanto riguarda il discorso che faceva Slow Food delle filiere noi da produttori da produttori di peperone le ringraziamo perché comunque fanno una valorizzazione importante di tutto dei produttori che cercano di produrre prodotti locali l'unica cosa è che quando si sviluppano queste filiere poi secondo me bisognerebbe anche andarle a controllare perché se noi facciamo un presidio Slow Food del peperone l'orce di altino o della ventricina non soltanto io lo dico da produttore perché so che una mentalità che in Abruzzo l'ha cambiata il passo di qualità da fare è proprio quello là però se noi facciamo dei presidi Slow Food e non controlliamo le filiere non facciamo niente perché magari potrebbe essere un bravissimo salumiere ma se uso un maiale danese e dico al consumatore che invece è un maiale italiano ma nessuno mi viene a controllare in azienda quello che faccio allora non abbiamo fatto niente allora il passo ulteriore da fare in questo momento secondo me è che quello che è mancato in Abruzzo negli ultimi vent'anni sono i consorsi consorsi agrari di tutela che certificano le filiere soltanto in questa maniera e con l'associativismo anche dei produttori possiamo fare un passo ulteriore perché altrimenti raccogliamo che il peperone che vendo io è di altino ma se non me lo certifico e noi produttori di altino non ci associamo in una maniera seria e lo stesso è bene per la venticina di altri botti locali non riusciamo mai a fare un passo di qualità anche per l'ottenimento di doppi GP un ragazzo dell'Emilia Romagna loro hanno oltre 20 marchi GP e DOP quando l'Emilia Romagna notoriamente non ha prodotti di eccellenza come i nostri quella venticina del Vastese i miei di Tornarecci i peperoni e il centino potremmo avere tantissime altre DOP che però mancano perché mancano dei collanti territoriali che bloccano un po' lo sviluppo quindi magari anche per questo prodotto DOP potrebbe essere un volano un'associazione che potrebbe spingere anche al consorzio o all'associatismo tra i produttori e le filiere territoriali mi auguro insomma spero che sia importante dirigente della CIA Confederazione Italiana di Ricoltura d'Ado e Gini io capisco la storia rispetto però noi che è importante voglio dire importante un pezzo importante senza la storia già visto faccia niente però adesso dobbiamo guardare un attimo avanti nel senso che grazie a Dio in questa nostra zona ci sono tante imprese agricole tanti produttori di ventricine negli ultimi anni e questo è un dato positivo nel senso che anche i giovani quello di Altina ha fatto superpecnologia ha fatto giovane aziende che si stanno insediato e ci stanno cimentando nel produrre ventricine e abbiamo parecchie aziende a queste aziende dobbiamo dire e costruire intorno a queste aziende un progetto di filiera sulle ventricine progetto di filiera che parte dall'allevamento perché dobbiamo convincere un po' di gioco e a giorno uscirà il piano di sviluppo rurale il primo insediamento a ritornare all'allevamento cose che in questa zona abbiamo perso tutti quanti il segno nel senso che è difficile trovare un'azienda zootecnica in generale nella nostra zona e quindi il progetto di filiera va costruito insieme ai giorni per il futuro perché non possiamo puntare a aziende che hanno 80 anni e che continuano a lavorare se invece guardiamo avanti e cerchiamo di mettere insieme queste nuove aziende che già producono aziende che si vogliono impegnare e affittare i terreni che nelle zone interne ci sono anche per la produzione cioè per quello che serve al maiale riusciamo a fare un progetto di filiera che dare quello che slobusta invece un marchio quando riguarda il vastese io dico la pallata del primo perché ci sono comuni molisane dove la ventricina si fa e è anche un buon prodotto dobbiamo lavorare a questo progetto questo progetto di qualità che riguarda la ventricina e penso che le basi ci sono nel senso che giorno 20 uscirà il bando di primo insediamento io so che c'è intorno a questo bando oltre 600 domande di interesse hanno manifestato interesse 630 giovani che così vogliono insediare in agricoltura è un dato importante insomma nel senso che c'è una scoperta molti sono giovani lavoriati come i giovani di Altino e quindi questi giovani vanno aiutati sostenuti in donna ha un progetto redire perché noi dobbiamo lavorare sulle cose possibili e la ventricina insieme la ventricina quando parlo di ventricina per me il peperoncino e il pepe di Altino ma anche il peperoncino che serve alla ventricina deve fare parte di questo progetto come il finocchio selvatico che è un altro prodotto che dà quelle qualità alla ventricina noi dobbiamo lavorare su questi progetti se troviamo a mettere insieme dieci giovani che ognuno lavora un segmento di questo progetto penso che possiamo arrivare a un progetto di filiere che riguarda il nostro territorio io penso che ce lo possiamo fare c'è bisogno di un po' di buona volontà anche da parte nostra sapendo che l'esperienza del maiale neri molte aziende nelle zone interne l'hanno provata dopo 4-5 anni hanno dovuto abbandonare hanno dovuto abbandonare questa iniziativa di allevamento del maiale nere perché non rendeva e non si adattava e non si adattava al nostro territorio e qui visto che ci abbiamo provato e non ha dato dei risultati puntiamo all'allevamento del suino bianco che è quello che riguarda la nostra zona per mettere a disposizione di questi produttori noi abbiamo 40 aziende che producono ventricini ma pochissime aziende che arrivano è difficile anche contare su una mano io penso che su questo dobbiamo lavorare siamo da 2 a 3 ho detto di un vice contare anche su una mano rispetto a questi problemi senza fare no io penso che dobbiamo puntare su questo se vogliamo fare anche un salto di qualità alle produzioni di questo territorio quindi su questa un manager di una grande industria la domanda Peppino adesso ci ha detto che insomma lui è fiducioso ma la domanda riprendendo le ultime cose che diceva Peppino riusciremo grazie a a fare un'industria di questo o no tu sei anche di questo territorio oltre che le tue conoscenze manageriali ti aiutano a dirci grazie della parola per chi non lo conosce il dottor Graziano Marco Vetti è il presidente della Bicchidon Italia io sono felice 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 però ha portato il figlio all'ammazzamento del maiale ecco ve lo citerò questa cosa ma sono felice felice perché nell'occasione di questo prodotto topico dove mi sono trovato per caso perché io non sono un certo esperto nel slow food di cibo anche se rivendico la primogenitura del prodotto topico in quanto sono stato io a lanciare la sfida della porchetta tra ventella e fresa e a questo punto professore sto per lanciare la sfida per la ventricina da maiale nero di cui vi farò carico e cercheremo questa gara di organizzare insieme a Nicolino in apposito luogo forse a Doglione che generalmente è camponente veramente sono felice perché sono felice perché stavo seduto lì e guardavo questa cartina questa cartina è una scuola di vita io non leggevo queste cose se non se non quando il professore mio di greco e latino io ho fatto il dicioprano il professor De Garo ci ha fatto innamorare del greco e del latino facendoci fare le opere prima in greco poi in latino poi in dialetto a Bruzzese perché il dialetto a Bruzzese doveva essere patrimonio del nostro futuro non sono pessimista perché questa iniziativa se dovesse cogliere solo un successo uno ha compiuto la sua missione ho apprezzato la storia di Altino perché poi mi avete mandato un libro e non so chi devo ringraziare di voi ma mi è arrivato tramite l'ingegner di Giambattista che lavora con noi e credo sia collegato con voi in un certo modo perché loro sono stati fantastici allora è vero che hai scritto molte A molte I eccetta capire come costruire prodotti interno loro su queste cose questa è la verità non c'è dubbio che non possiamo farlo senza l'industria non c'è dubbio che non possiamo creare prodotti interdordo solo con altro però 600 domande di manifestazione di interesse ho appena saputo e sono 3.000 posti di lavoro 6 per 4 24 possono essere iniziative da 3 da 4 da 5 da 6 posti di lavoro certo voglio dire i nostri 3.000 sono importanti grazie a Dio speriamo che continuino e speriamo che continuino però questa storia del prodotto topico così come è nata in maniera divettantistica perché non è certo nata con i crismi di tante ufficialità credo però che necessiti oggi di qualche passaggio per arricchire e va arricchita e come senso di associazionismo chi parla e parla di un'azienda che è uscita da Confindustria ma proprio per dirvi che queste associazioni non è che molto spesso servono a cercare servizi importanti invece magari questa iniziativa può cogliere quantomeno per mettere assieme relazioni per mettere assieme conoscenze perché senza il peperone la ventricina se lo fa quindi già per questo deve creare qualche cosa probabilmente dobbiamo fare ma l'ultima che Raimondo mi diceva in macchina deve essere la scuola cioè se noi non mettiamo in mezzo la scuola non faremo il salto di qualità io ti racconto che il mio figlio che l'ho portato grazie a te finalmente a vedere come si uccideva il maiale ha fatto il tema a scuola il 12 di dicembre sono andati tutta la classe quest'anno avete uccidere il maiale a furgire ora lì nasce da un bambino e poi ne nasceranno da dieci ma poi da venti questa cultura si mantiene allora come fare questo? sicuramente Maria ci può dare una mano io lo farò e lo farò perché la Vinton comincia l'alternanza scuola-lavoro adesso che io ho preteso ho preteso anche se la governeremo noi la faremo con i 5 istituti di scuola superiori le 4 di basto e la scuola superiore di sanzo faremo circa 6.000 ore di formazione però lì siccome il primo incontro lo farò io volevo già ed è la mia intenzione aggiungere nei temi che vorremmo dire ai ragazzi che non è solo il mondo del manager dell'industria ma anche quello dell'artigianato del commercio dell'agricoltura quello dove dobbiamo guardare e questa parte di tradizione poi è una storia importante dietro tutto questo allora come questa associazione debba porsi con la scuola lo dobbiamo capire lo dobbiamo fare e abbiamo un vantaggio che io vi testimonio sono stato alle porte aperte con le iniziative che fanno le scuole che convincono questo è il periodo della concorrenza del marketing quindi tutte le scuole fanno le cose io purtroppo sono legato al liceo classico dove pure tu mi hai fatto il liceo è il presto di mia vita a sponsorizzare non avete idea di come i bambini di terza me siano interessati alla cucina al prodotto io ho fatto le domande ai ragazzi l'80% che vuoi fare da grande l'80% ha risposto cuoco e pasticcere è un bombardamento che ricevono da tutte queste 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 c'è stato l'expo che ha che ha alimentato ancora ma c'è un momento storico d'accogliere d'accogliere perché questi ragazzi che oggi sistematicamente mangiano a McDonald's certo non sanno né di ventricine dei prodotti del maiale né nulla di tutto questo potrebbero però trovare la passione proprio riscoprendo prodotti locali dietro questa mediatica operazione che c'è oggi sulle televisioni perché se lo fanno vuol dire che c'è se no non lo farebbero e quindi direi caro che sei stato attento quel giorno quando il sindaco di fresa mi ha detto non mangiare la porchetta diventerla quella buona la facciamo noi voglio lanciare la sfida dobbiamo capire come questa associazione forse anche costituirla più legalmente non lo so più legalmente cioè più riconosciuta e attenzione che non dimentichiamo ci sono pure i soldi su queste cose e molto spesso li lasciamo a Bruxelles forse dovremmo capire se possiamo fare qualcosa che però deve passare per la scuola se noi portiamo le scuole al prodotto topico se noi facciamo l'alternanza scuola-lavoro anche sull'agricoltura anche io non dico solo l'agricoltura ma sull'artigianato su piccolo commercio o su qualcosa di simile io penso che serate come questa sera e quella oramai prossima avventura della sera più buona la ventricina della maiale o quella della maiale bianca verrà grazie 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 io credo che possiamo dare la parola all'onorevole Maria Amato per per così concludi andiamo sì allora Maria ti do un elemento lo do a tutti prima non me ne andate perché voi dovete andare a cucinare capisco allora si sono aggiunti quest'anno che non avevamo l'anno scorso Civita Campomarano Termoli Casoli Serra Capriola Benevento Campobasso Pada San Martino Pesco San Pietro Avellano Riccia Cosenza Scapoli Cornareccio e Bazzi allora io in piedi perché il white large in piedi parla meglio allora i saluti andavano fatto ad inizio io qui ci vengo sempre volentieri Carlo per me è un amico l'entella è un posto di grande accoglienza parlare in una biblioteca di cibo per uno che fa il fiduciario sullo food è praticamente il prodotto il prodotto topico ha avuto una crescita rapida nelle nelle sue edizioni che è sotto gli occhi di tutti e io cito la foto della una delle foto che mi ha colpito che è o della prima edizione ed erano tutti i gonfaloni dentro un palazzo Tavalos tutti i gonfaloni il presidente della regione Abruzzo il presidente della regione Molise Giovanni Legnini io e un sacco di sindaci allora questo è stato il primo segnale di qualche cosa che poteva fare rete poteva fare territorio senza abusare della parola partendo dal basso e le reti che partono dal basso sono le reti quelle più radicate quelle che hanno più possibilità di respiro e di futuro sono usciti due concetti uno l'abusadissimo termine chilometro zero chilometro zero è per noi portare gente da noi a consumare sul posto l'esportazione che dobbiamo fare è l'esportazione della bellezza intendendo come bellezza l'insieme di storia cultura tradizioni e il racconto la narrazione dei sapori che vi deve prendere vi deve affascinare perché qui ci dovete venire ed è il lavoro che si fa nella costruzione di percorsi e di itinerari di turismo slow nuovo modo di fare turismo che è quello del camminare lento guardarsi intorno assaggiare le cose oltre ai saluti io ho un ringraziamento da fare specifico alla Nicolino Octavia sì perché fare la giuria del prodotto topico richiede un fisico fuori da ed è stata la persona che è riuscita con i suggerimenti di chi probabilmente e probabilmente è abituato a un rapporto misurato col cibo un rapporto critico col cibo suggerimenti che mi hanno consentito di affrontare queste prove la prima vi devo dire è stata abbastanza devastante sulla seconda sono già andata meglio se la possiamo fare io sono della stessa opinione che la giuria è unica e la giuria assaggia tutti i prodotti si parlava prima di dilettanti allora superare il dilettantismo significa trasformare la convivialità in cultura sviluppo e cultura sviluppo il lavoro e soprattutto rendere riproducibili le cose che si fanno non deve essere un momento di arte un momento di creatività sporadico va radicato e riproducibile slow food penso che abbia come obiettivo oltre gli altri anche quello di avviare il discorso di slow food della condotta giovani perché altrimenti limitare la convivialità a come dire semplicemente una generazione una generazione che passa significa non fare educazione ai sapori e non fare educazione rispetto alla cultura del cibo il prodotto topico si è guadagnato un ruolo più un ruolo sociale che è quello del costruire relazioni creare legami creare sinergie di sviluppo ma soprattutto lavorare per radicare la memoria i piatti tipici che ci riportano a storie storie lontane secoli storie lontane popoli vanno comunque insegnati e fatti ricordare e ci porta a pensare ampliando la rete ampliando l'estensione a questa parte d'Italia alla possibilità di mettere su itinerari itinerari che sono già diciamo in essere con i castelli i musei l'ho dato un corpo d'occhio prima il topico dei castelli il topico nella natura il topico dei bordi di un tempo il topico sugli itinerari della fede questi quattro ingredienti sono praticamente gli ingredienti che caratterizzano i cammini Graziano prima diceva io nel ruolo istituzionale che ho servo a questa cosa i cammini stanno già strutturati e stanno già finanziati allora significa per noi cogliere un'occasione per trasformare anche solo una parte dell'esperienza del prodotto topico per definire la progettualità di un cammino e in qualche modo riuscire ad arrivare a un finanziamento nazionale i finanziamenti europei su capitoli che ci riguardano perché il prodotto topico si può spendere dal punto di vista per esempio del benessere si può spendere dal punto di vista degli itinerari del turismo lento si può spendere a livello nazionale sugli itinerari del turismo in bicicletta lo Stato ha investito sulla legge di stabilità su questo sull'itinerario in bicicletta una siamo a intorno ai 90 milioni di euro da cui vanno tolti quelli legati alle aree metropolitane cioè tutto quello che serve per andare a lavoro ma c'è una parte di fondi i fondi stanno non arrivano i fondi i fondi vengono stanziati bisogna mettere su dei progetti credibili e soprattutto ripetibili nel tempo cioè che non siano una cosa sporadica io non mi posso avventurare come chi è competente io sono un medico di campagna per cui in fronte agli storici a Raimondo che è l'anima dello slow food io sono solo il fiduciario quindi Raimondo è veramente dello slow food lo stesso Orazio sulla venticina non mi ci posso avventurare però in giro per Roma una mattina che non c'era non c'era attività su via condotti quindi la via dei ricchi e del commercio di lusso a un certo punto su un locale io sono entrata semplicemente perché ho visto una lavagnetta scritta bene tra il Patanegra e il Parma 34 mesi c'era venticina di Guilby chi era con me e altre regioni c'erano dei Lombardi e dei Toscani uno ha commentato ma donna Maria hai cambiato faccia e ha detto sì perché intanto ho visto l'area di casa e poi perché di fronte alla venticina ci si commuove per cui praticamente la a parte questa cosa che è emozionale perché il cibo è emozione e io in gran parte lo vivo così penso che l'ampliamento della rete è il segno che è della potenzialità di cambiamento le cose si cambiano se c'è la massa critica il prodotto topico è nato con il piede grazie